Mie carissimi amici, ecco a voi la ricetta facilissima per preparare lo spritz a casa. Vi basteranno solamente 5 minuti. Comincio tagliando a fette sottili un'arancia, possibilmente bio. Verso in un calice 100 ml di prosecco, bello freddo e di frigo. Aggiungo 70 ml di Aperol, anche questo bello freddo e di frigo. Infine una spruzzata di soda, in alternativa si può utilizzare l'acqua frizzante. Mescolo brevemente per non far sgrasare il cocktail. Verso del ghiaccio in un calice di vino. Poi verso lo spritz appena preparato. Condisco con una fettina di arancia. Ed ecco a voi miei carissimi amici, il protagonista delle feste è il più famoso, e il vostro Aperol Spritz è pronto per essere servito per l'aperitivo homemade. Si abbina perfettamente a tantissime preparazioni salate, come un antipasto di tartine, affettati di tutti i tipi, oppure verdure miste. Grazie a tutti! Grazie a tutti.